Colby Rossa, la rimessa ancora per Varese con 17 per andare a chiudere il tiro, ancora Rossa prende il blocco, l'alzata ancora e finisce nel canestro. Continua la difesa a zona da parte di Trieste, mi sembrano forse tornare da uomo adesso, poi vedremo l'approssimazione, ma tanto per Ross è la stessa cosa. Bartley prova a partire uno contro uno, lo tiene bene De Nicolau, scivola Bartley, De Nicolau gli soffi il pallone, Johnson spinge, serve a Ross, evita anche la stoppata di... Anche se Varese ogni volta riesce a spingere nuovamente, vediamo se lo fa anche Ross stavolta, ogni volta che Trieste... Un minuto esatto adesso, 9 secondi per trovare il tiro per Varese, lo trova Ross da tre! Pazzesco canestra di Ross!